Buongiorno, sono l'ingegner Gaetano Viviano, sono responsabile di prodotto presso Isoil Industria S.p.A., un'azienda italiana che da oltre 60 anni opera nel settore delle misure di portata in particolare. È un'azienda costruttrice di misuratori elettromagnetici e ultrasonori. Oltre a questo distribuisce strumentazione di analisi per l'analisi online, di cui per esempio le sonde spettrometriche della Scan, un'azienda austriaca con oltre 20 anni di esperienza. Le sonde spettrometriche si propongono come alternativa agli analizzatori online, in caso particolare delle sostanze organiche. Possono essere utilizzate in diverso modo all'interno del processo industriale, possono essere utilizzate in linea o a deflusso, e possono essere utilizzate per monitorare gli ingressi, gli scarichi o le linee di processo. La strumentazione si compone da hardware, chiaramente, e da software. L'hardware appunto sono sonde, quindi strumentazione semplice, senza materiali di consumo, e quindi per questo molto economiche dal punto di vista della manutenzione. I software sono molto importanti perché permettono di identificare, di convertire il segnale di assorbanza raccolto dalle sonde in concentrazione di composti. Sono molto importanti perché hanno anche la possibilità di determinare allarmi sulla base delle concentrazioni osservate, ma anche semplicemente sull'osservazione dell'ospetto grezzo. Quindi questa strumentazione si propone come soluzione alternativa agli analizzatori online, avendo come punto di forza i minimi costi di manutenzione, i minimi costi dati dai reagenti, che in questo caso non ci sono, e la necessità di pochissimi interventi e di pochissima manutenzione. Grazie.